Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Comunque agli amministratori che hanno voluto, sentate che queste due bottiglie non vedranno l'alba di domani, sentate che non vedranno l'alba di domani. Io darei qua la loro formazione vincitrice della categoria Martina, perché adesso pregherremo la formazione vincitrice della gara femminile. Ci partiamo di questa edizione. Grazie mille, grazie mille.